La Merkel dopo aver distrutto il sogno europeo e addirittura l'Unione Europea con anni di austerity forzata si accorta finalmente di qual è il problema. Il problema di una moneta che non è collegata a delle economie che sono molto differenti tra di loro. Non c'è un'unica economia europea ma ci sono le economie nazionali. Questo è il vero problema. Quindi quello che ha detto la cancelliera Merkel è prendere atto del fallimento dell'euro. Se ne accorta molto tardi ma alla fine se ne accorta. Le nostre proposte come Lega vanno proprio nella direzione, se non proprio simile, nella stessa direzione ovvero riapproparci della nostra moneta affinché la nostra economia possa essere riflessa da una moneta che ci aiuti a sostenere la nostra economia, a portare a esportare e a far sì che tutto il sistema economico sia finalmente sostenibile.